Questa è una storia sul destino che narra l'amore nelle sue forme più pure, più semplici. Mi sono innamorato. La magia di un incontro. Accompagnami nel mio mondo incantato. Azzurro. Manuel. Segreti nascosti, intrighi e cospirazioni. Sì, che è viva! E se qualcuno riesce a trovarla, mia cara, allora sarà la fine per te, per me, per tutto il resto della famiglia. Tragedie del passato che incombono sul presente. Non capisco niente. Lei ha paura che l'uomo di cui si è innamorata la rifiuti quando scoprirà che è sordomuta. Araceli Gonzales. Gustavo Bermudes. La forza dell'amore. Prossimamente sulle 11 anni.